musica 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 io son Leonardo da Vinci l'architetto sei tu conscio del fatto che ciò che ti circonda non è reale siamo un mero simulacro illusorio prodotto in una dimensione ben più vasta e a noi aliena ogni azione da te finora è spletata e la risultanza calcolata e progettata dall'oschi individui connessi ad un computiere il tuo unico scopo è intrattenere il volgo del mondo esterno tramite un passatempo malsano conosciuto come videogioco va mi ergo i tuoi sforzi è impossibile sfuggire al proprio fato il mondo il mondo il mondo il mondo il mondo è il mondo il mondo è il mondo è il mondo il mondo è il mondo è il mondo è il mondo è il mondo il mondo è 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 è il mondo 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 è è il mondo è è che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.